Ciao a tutti, sono Nese e sono qui con un nuovissimo video e stavolta mi sono arrivati altri pacchi da Banggood Me ne sono arrivati di cose molto molto interessanti Allora, inizierei col farvi vedere una cosa che non è per me, ma è per il mio ragazzo perché dovrà fare il cosplay di Kylo Ren, visto che gli somiglia parecchio Allora, la prima cosa che mi è arrivata è questa spada laser di Star Wars Eccola qua Ve lo faccio vedere perché è parecchio grande E ho scoperto che si illumina per davvero, perché se togliete questa linguetta, ora io non la tolgo Oppure sì, ora vediamo E spingete qua, si illumina Questa è la confezione Eccola qua Si allunga, come vedete Eccola qui E' molto simile a quella che trovate nei negozi di giocattoli Però, però si illumina appunto Ora, vi faccio un attimo vedere come funziona Cioè, se funziona soprattutto Ah, fa il rumore! Ok, io penso si illuminasse Invece no, fa proprio il rumore Ok, ok Fa il rumore praticamente della lotta a quanto pare Ehm, non credo allora che si illumini No Pensavo di sì invece no Però fa il rumore appunto Eccola E' molto carina, devo dire Poi qui la modificherà e ci farà i due raggi laser Diciamo qua Ai lati E fa tutti questi rumori Questi tre Queste tre combinazioni Molto carina però E' costata pochissimo Cioè, veramente poco Ehm, non ricordo quanto Ma poco Mi pare 5-6 euro al massimo Però molto carina Invece nei negozi costa veramente tanto E niente, mi piace Mi piace molto Eccola E' parecchio grande anche l'impugnatura Bella Mi piace molto Quindi questo è il primo oggetto Un altro oggetto che non è per me Ma credo che darò a mio padre E' questo Questo qua Ed è Un teschio Diciamo Di Coccodrillo Sarebbe Finto ovviamente E' una riproduzione Ovviamente minuscola Però E' un teschio appunto Che può sembrare anche di Dinosauro Perché ovviamente Molto bello comunque Devo dire fatto benissimo Ora ve lo faccio vedere meglio Eccolo Veramente 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 Fatto bene Anche questo costava pochissimo E questo Siccome abbiamo una collezione Abbastanza grande Di fossili E di pietre E gemme Eccetera Tipo Quarzo Queste cose qua Insomma Lo volevo regalare a lui Da metterlo in esposizione Insieme appunto Ai fossili E questo E questo è veramente Spettacolare Lo trovate appunto Sempre su Banggood Vi lascio tutti i link In descrizione Se c'è qualcosa Che vi interessa Oppure se volete Dare un'occhiata al sito Che ha prezzi Veramente Molto molto bassi E se volete trovare Degli squishy Li trovate anche Quelli lì Bello anche questo Poi Poi Allora Una cosa nuova Che è il Nuova Nel senso Per me nuova Ma in realtà Sciaggiata un po' Il fidget cube Io non ne avevo Ma siccome sono in fissa Con i fidget spinner Me l'hanno attaccato I miei cuginetti Quindi ora sto in fissa C'è il fidget cube C'è anche il fidget stick Però non ce l'ho quello Ma non mi piace tanto Questo si E ha diverse funzioni Qui Niente Sono pulsanti da premere Come se Doveste Diciamo Scoppiettare Sentite Le bolle Diciamo Le pluriball Questo È tipo Un Joystick Eccolo qua Questo è come L'interruttore della luce Qui ci sono Delle rotelle Come Le combinazioni In pratica Di Di Una valigia Questa è una sfera Con quella del mouse E Niente Questo Niente E questo qui Invece gira Eccolo qua È molto carino Ho scelto questo colore Qua Mimetico Celeste Ce ne erano anche Di altri colori Ci sono di vari prezzi Questo pure costava Molto poco Li trovate anche A 2 euro 3 euro Molto Molto Sicuro E poi Ho 3 Nuovi Spinner Molto Belli Iniziamo da questo Che è il più semplice Allora Questo Io ne volevo Uno Trasparente Con i glitter Questo invece Però Non l'ho trovato E quindi ho preso Questo Questo è Glow in the dark Allora Questo qui Glow in the dark Rosa Aspettate Che se riesco Lo dirò fuori Aspettate Eccolo qua E appunto Si illumina Al buio Allora Eccolo Qui è Trasparente Come vedete I cuscinetti Sono neri E appunto Si illumina Al buio Va molto bene Va come I classici Fidget spinner Che trovate Un po' ovunque Quindi Buona qualità E mi sa Molto carino Che si illumina Al buio Veramente Bello Bello E poi Altri due Che sono Stupendi E i miei cuginetti Impazziranno Perché Già Mi hanno detto Che gli piacevano Sti colori Poi prima o poi Gliene prenderò Uno sicuro Perché Gli piaceva Aspettate Che Ok Ci abbiamo fatta Arrivano In queste confezioni Anche molto Molto Resistenti E carine Abbiamo Questo qua Che è Olografico Rainbow Diciamo A forma Di ragno Mi fa pensare Moltissimo A quello Di Spider-Man E' molto Spesso E' molto Pesante Molto simile A quello Ad Atomo Che avevo Già recensito Molto bello Devo dire Molto Molto valido Anche questo Eccolo qua E questo Di Batman Che ora Vado a Tirare Fuori Ok Eccolo qua Questo Stessa scatolina Aveva Questa scatola Questa qui Anche Quello Che avevo Ordinato Da Amazon Ad Atomo Però Si era Completamente Rotta Arrivando Invece Questi erano Protetti Molto bene Con la Pluriball Eccetera Quindi niente Ve li consiglio Insomma Se vi servono Andate su Banggood E li trovate Questo è Veramente Molto bello Mi vedo Anch'io Praticamente Molto lucido E è appunto A forma Di Bat Segnale Molto bello Anche questo Di metallo Ovviamente Non sono Di plastica Sono di metallo Belli belli Wow Favolosi Ve li Consiglio Assolutamente E per oggi Credo sia tutto Non so se mi devono Arrivare altri pacchi Da Banggood In caso li inserisco In altri video Comunque Per questo video È tutto Ecco qui Allora Questo è tutto C'è anche La spada laser Ma non c'entra Nell'inquadratura Fatemi sapere Se vi è piaciuto Questo video Io adoro Questi fidget spinner Sono veramente Stupendi Sono tra i più belli Della mia collezione Sicuramente Molto bello Anche questo Devo dire Molto valido Mi sono piaciuti Tutti molto Quindi Ve li lascio Tutti i link In descrizione Se vi interessano Fate un salto Su Banggood Hanno sempre cose Poco E molto carine E molto sfiziose Fatemi sapere Qual è la cosa Che vi è piaciuta Di più E se passate Al sito Fatemi sapere Quali sono le cose Che vi hanno colpito Niente Per il resto È tutto Vi invito A lasciare un like Commentare Iscrivetevi al mio canale Se vi va E noi ci vediamo In un prossimo video Vi mando un grosso bacione E ci vediamo alla prossima Ciao ciao Ciao